Blitz antiteurismo della polizia belga che ha sventato un attentato che si sarebbe dovuto compiere durante la partita tra Belgio e Irlanda degli europei di calcio 2016 che sul campo è finita 3 a 0 a favore della formazione belga. Le notizie che sono state date sia da una tv fiamminga che anche dalle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 12 persone. Un pacco sospetto è stato trovato sabato pomeriggio di primo alle forze di polizia a Bordeaux dove era appunto in programma la partita che si è svolta regolarmente e si sono viste anche delle scene di panico. Tra l'altro l'episodio è avvenuto fuori dalla prima cinta dei controlli per entrare nello stadio. Tornando alle notizie inerenti all'arresto delle 12 persone la stessa tv fiamminga VTM fa sapere che è stata intercettata una telefonata in cui si allodiva proprio alla compattezza nell'organizzazione di attentati. Dunque la tensione rimane alta in questi europei e anche in Belgio dopo l'attentato avvenuto qualche mese fa. Mimmo Siena, Speciale News.